Quattro contendenti per un ruolo da segretario. Tra aree e correnti i nomi dei candidati per la guida della segreteria romana del PD sono venuti fuori. Ad aver annunciato ufficialmente la sua candidatura, oltre a Livio Ricciardelli, Valeria Baglio e Andrea Casu, è Andrea Santoro, sostenuto dalla corrente Santa Chiara, fondata dagli ex presidenti di municipio e dagli orlandiani. Andrea Santoro ha presentato la sua candidatura presso il circolo PD Centro Storico, in via dei Cappellari a Roma. Una nuova struttura organizzativa del partito, ricostruzione e rapporto con governo, questione ATAC, rifiuti, diritti e legalità, sono i cinque punti da affrontare subito per il candidato. Ho chiesto e ho proposto di scegliere già da luglio alcune cose da fare, come la riorganizzazione dei circoli, come la scelta di sostenere il referendum dei radicali su ATAC, come ipotizzare il disegno di privatizzazione del servizio di raccolta e di spaziamento dell'AMA, cioè alcune cose concrete che cambieranno la vita delle persone. L'ho detto, lo facciamola subito perché ho chiesto a tutta la squadra che sta lavorando con me che quest'anno non si prenderanno ferie perché vogliamo a settembre partire con un partito democratico veloce in sintonia con i cittadini. Dopo due anni di commissariamento è giunto il momento per il PD di affidare la guida del partito romano ad un candidato capace di riconnettersi con la base.